Dopo il nominativo, il vocativo e l'accusativo che abbiamo esaminato nella lezione scorsa, oggi prenderemo in esame altri due casi, il genitivo e il dativo. Sono dei casi un po' più complessi, la cui funzione richiede un po' di approfondimento, anche perché si sovrappongono diversi significati dell'uno e dell'altro caso e non sempre è facile orientarsi nella scelta tra l'uno e l'altro. Ricordiamo sempre che noi non ci proponiamo di condurre dall'italiano verso il latino lo studente, ma di portarlo dal latino all'italiano. Quindi non ci potremmo mai il problema di come si dice in latino questo, ma che cosa significa in latino questo. Noi partiamo comunque da un testo in lingua latina. Ciò che in un testo in lingua latina non può creare confusione non è oggetto della nostra trattazione. Allora cominciamo a vedere qual è il significato del genitivo, quali sono le funzioni che il genitivo assolve all'interno della frase. Il genitivo indica la appartenenza, a quale persona appartiene qualcosa e quindi più in generale a quale categoria di esseri quella cosa appartiene e, come ultimo passaggio, a quale gruppo possa essere riferito come uno degli elementi costitutivi di quel gruppo. Dunque, da una funzione primaria per cui il genitivo indica il possesso, la casa di Giulio, si passa a un'appartenenza non in termini reali, ma in termini di essere all'interno di un insieme, di un gruppo, di una categoria. Quell'esempio che avete visto prima all'interno della schermata, probissimus magistrorum, il più giusto, il più onesto dei maestri, fa sì che si intenda attraverso quel genitivo magistrorum che stiamo parlando di qualcuno che appartiene, ed ecco dunque ancora una volta il concetto dell'appartenenza, appartiene alla categoria dei magistri, uno che rientra nel gruppo dei maestri. Dunque, questa tipologia del genitivo, questa sua funzione essenziale di indicare proprietà, possesso, appartenenza, viene poi articolata e semplificata in tutta una serie di ricorrenze che vedono il genitivo collegato o con dei sostantivi o con degli aggettivi o con dei verbi in quanto la dipendenza del genitivo è retta sia dal sostantivo sia dall'aggettivo sia dal verbo. Ora noi cominceremo a esaminare alcuni dei casi in cui più frequentemente in latino si trovano dei genitivi connessi con queste tre parti del discorso. Cominciamo a vedere i casi dei genitivi con sostantivi. Abbiamo detto che il valore originario, fondamentale, primario del genitivo è quello del possesso. Anche in italiano di indica prevalentemente un possesso. E il genitivo possessivo in questo caso viene esemplificato con un verso di Plauto che indica un tipo di possesso molto forte, fortunatamente non più presente nella società moderna il possesso dello schiavo da parte del padrone. Nella commedia Anfitro, l'anfitrione, un personaggio si rivolge ad un altro personaggio chiedendogli cuius es di chi sei, a chi appartieni, chi è il tuo padrone e la risposta è Anfitruonis inquam, Sosia. Io sono Sosia, ti dico, lo schiavo di Anfitrione. Io sono Sosia, proprietà di Anfitrione. È la famosa scena in cui Mercurio, travestito da Sosia, inganna perfino lo stesso Sosia facendogli credere di essere lui. e di qui anche nell'uso corrente dell'italiano la parola Sosia è diventato un nome comune da che era un nome proprio, il nome di questo schiavo. Ma siccome Mercurio era proprio identico a questo schiavo il Sosia si è scritto con la S minuscola ed è diventato un nome comune. Dunque, genitivo di possesso appartiene a qualcuno, è di qualcuno. Ciò che è proprio di qualcuno è anche una sua caratteristica peculiare e se è una sua caratteristica peculiare è qualcosa che si addice che conviene particolarmente a chi è dotato di quei caratteri e di quelle particolari virtù, di quei particolari meriti. Vediamo il secondo degli esempi che trovate nella tabella. In questo caso avete sapientis est consiglium explicare sum de maximis rebus e proprio del saggio saper spiegare bene il proprio parere sulle cose di maggiore importanza, sulle cose più rilevanti. Sapientis est nel caso precedente avevamo cuius est anfitrionis sottinteso sum di chi sei proprietà sono proprietà di anfitrione qui abbiamo che la proprietà del saggio è sapersi spiegare bene su cose particolarmente importanti. Questa proprietà è una caratteristica è una qualità è ciò che conviene al saggio al saggio conviene è giusto che il saggio abbia questo tipo di caratteristica. dunque in un certo senso rientriamo ancora una volta all'interno di questa idea di genitivo di possesso perché la categoria dei saggi possiede questa particolare qualità. Un altro tipo di rapporto che in qualche modo è collegato all'avere qualche caratteristica è quello del genitivo soggettivo. quando noi abbiamo una frase come auctoritas principum cecidit diciamo che venne meno l'autorevolezza dei principali esponenti del mondo politico quindi i grossi esponenti del mondo politico persero la loro autorevolezza l'autorevolezza dei capi l'autorevolezza dei leader è l'autorevolezza che i leader hanno ancora una volta un'idea di possesso ma in questo caso noi diciamo che i capi sono autorevoli i capi posseggono l'autorevolezza e quindi in qualche modo oltre a essere una loro proprietà essi augent in qualche modo perché auctoritas è derivato da questo verbo dunque svolgono una funzione di soggetto relativa al sostantivo a cui quel genitivo è collegato diceva Gellio che in alcune frasi questo genitivo è ambiguo perché non è chiaro se indica colui che fa l'azione o colui che la subisce quando noi diciamo metus ostium è una frase che non trovate nello schema ma è abbastanza breve perché la possiate ricordare metus ostium metus è una parola della quarta declinazione la paura ostium un genitivo se noi facciamo di metus ostium un nesso parallelo a auctoritas principum vuol dire che la paura è posseduta dai nemici i nemici hanno paura dunque genitivo soggettivo ma in realtà possiamo anche noi essere nella paura dei nemici possiamo anche noi aver paura dei nemici dice Gellio la frase metus ostium è ambigua può significare sia che i nemici temono noi sia che noi temiamo i nemici allora ecco che il genitivo soggettivo e oggettivo può a volte dare origine a delle ambiguità quando noi abbiamo parole del tipo metus amor e così via non è chiaro se questa paura questo amore siano siano verso qualcuno o siano caratteristiche di quella persona in direzione di altri amor filiorum può essere sia l'amore che i figli hanno nei riguardi dei genitori sia l'amore che i genitori hanno nei riguardi dei figli dunque ecco alcuni casi di ambiguità nell'ambito del genitivo altre forme di genitivo sono invece un po' meno all'origine di confusioni vediamo un'altra schermata con tre tipi di genitivo che in qualche modo ancora rientrano in quel significato generale che abbiamo sottolineato all'inizio nomen attici perire ciceronis epistule non sinunt le lettere di cicerone non consentono che scompaia il nome di attico finché si leggeranno le lettere di cicerone il nome di attico sarà famoso perché c'è una parte dell'epistolario di cicerone che è indirizzata ad attico se anche attico non avesse meritato per altre ragioni di rimanere famoso basterebbe la fama delle lettere di cicerone per garantire immortalità a attico e al suo nome qui abbiamo due genitivi attici e ciceronis attici genitivo collegato al sostantivo nomen ciceronis genitivo collegato al sostantivo epistule in entrambi i casi si tratta di una spiegazione del nome nel caso di ciceronis epistule forse è più evidente il senso di possesso di proprietà visto che cicerone è l'autore di queste lettere nel caso di attico tuttavia il possesso del nome che era il suo nome è anch'esso abbastanza evidente e quindi in questo caso la spiegazione la epesegesi del termine è chiaramente collegata anche con una forma di possesso del termine medesimo un po' meno evidente è in altri esempi del tipo l'albero di melo l'albero di melo ha anch'esso un genitivo epesegetico dove il possesso è un po' meno chiaro è un collegamento di chiarificazione che però discende da questi altri casi in cui più evidente è il rapporto con un concetto di proprietà così come il genitivo di qualità che abbiamo già visto precedentemente a proposito delle caratteristiche che debbono avere alcune figure ritorna in una frase di Cicerone che trovate al centro della schermata magni judici summe etiam facultatis essere bebit orator l'oratore dovrà essere di grande intelligenza di grande senno ma anche di notevole prontezza di notevole capacità di esposizione quindi saggezza ma anche capacità pratica capacità di espressione due genitivi che indicano cose che debbono essere proprie dell'oratore qui abbiamo una costruzione in cui al sostantivo viene giusta apposta nella forma del genitivo una qualità indicata da un altro sostantivo appunto al caso genitivo quindi orator magni judici oratore che possiede un grande judicium orator summe facultatis oratore che possiede una summa facultas infine due esempi relativi a quell'altro tipo di genitivo che veniva portato a termine del percorso del possesso il genitivo partitivo all'interno di un insieme viene individuato una quantità o una persona satis eloquentie sapientie parum abbastanza di eloquenza poco di saggezza dunque noi prendiamo una quantità che viene definita satis come parte di un tutto che è l'eloquenza un'altra quantità che viene definita parum poco come parte di un tutto che viene definito sapienza all'interno di questi interi al genitivo si prende una parte e ancora eccellentissimi fu erunto persarum cirus et darius ricordatevi che in latino si pronuncia darius Ciro e Dario furono i più illustri fra i persiani persarum all'interno dell'insieme costituito dal genitivo persarum viene individuata una parte o se volete due parti cioè Ciro e Dario i due protagonisti di cui si fa riferimento come componenti di un insieme designato da un genitivo partitivo questo primo gruppo riguarda i genitivi che fanno riferimento a un sostantivo passiamo ora a un secondo gruppo di genitivi quei genitivi la cui dipendenza è collegata a un aggettivo gli aggettivi che vengono collegati che reggono si diceva un tempo il genitivo sono quelli che esprimono alcune particolari qualità e caratteristiche per esempio la somiglianza e la diversità similis dissimilis l'esempio che trovate ha metelli paucos pares ec civitas tulit questa città Roma produsse poche persone pari di metello dice il latino in italiano diciamo pari a metello in questo caso noi ci troviamo di fronte a una costruzione che consente due tipi di presenza in latino similis e dissimilis che sono gli aggettivi che più frequentemente si trovano in casi di questo genere possono costruirsi tanto con il genitivo quanto con il dativo per lo più si suole dire che quando similis dissimilis ed altri simili aggettivi vengono costruiti con il genitivo si intende che la somiglianza è particolarmente forte pressoché totale una forte stringente somiglianza quando invece la somiglianza è indicata con il dativo vuol dire che c'è sì una certa somiglianza ma proprio una identità assoluta non c'è dunque prima categoria gli aggettivi che indicano somiglianza e diversità seconda categoria quella degli aggettivi che indicano avversione o desiderio due opposti come due opposti erano per somiglianza e diversità Gaius Memmius fastidiosus latinarum litterarum Gaius Memmius non amava la letteratura latina aveva una certa avversione nei riguardi della letteratura latina in questo caso abbiamo l'aggettivo fastidiosus che indica appunto l'avversione al contrario sarebbe cupidus o qualcosa di simile e ci troviamo di fronte a un tipo di genitivo che chiaramente ci rinvia a quello che abbiamo prima definito come genitivo soggettivo e oggettivo se noi al posto di fastidiosus volessimo mettere un verbo avremmo Gaius Memmius fastidiebat latinas litteras aveva inuggia aveva fastidio delle lettere latine odiava la letteratura latina in questo caso vedete che latinarum litterarum se fastidiosus viene trasformato in un verbo latinarum litterarum diventa un accusativo dunque ci troviamo di fronte a un genitivo oggettivo perché qualora fastidiosus fosse un verbo latinarum litterarum sarebbe il suo complemento oggetto un altro tipo di genitivo in dipendenza dall'aggettivo è quello che indica la capacità o l'abbondanza di qualche caratteristica o qualità e ancora una volta l'assenza la privazione totale della medesima caratteristica marcus antonius omnino omnis erudizionis experts atque ignarus fuit marco antonio era assolutamente privo e ignaro di qualunque cultura cicerone come si capisce anche da questa frase non era molto amico di marco antonio e a proposito di marco antonio sapete anche le vicende storiche che intercorsero tra i due personaggi in questo caso noi abbiamo il concetto di privazione o al contrario della capacità abbondanza possesso che regge un genitivo e rientriamo quindi in quella categoria iniziale del genitivo che indica un rapporto di avere un rapporto di essere in possesso di qualche cosa dopo il genitivo con gli aggettivi rimane da trattare l'ultimo blocco di genitivi cioè i genitivi che sono costruiti con dei verbi abbiamo anche qui tutta una serie di verbi di vario tipo che vengono collegati con parole al genitivo la prima categoria sono quei verbi di ambito giudiziario che indicano quale può essere la colpa di cui qualcuno è accusato quale può essere la punizione a cui qualcuno è condannato in conseguenza di un giudizio absolutus eiusdem criminis gaius graccus est caio gracco fu assolto dal medesimo reato dalla medesima imputazione crimen in latino non indica il crimine italiano ma indica l'accusa che gli viene formulata dinanzi al tribunale in questo caso voi avete appunto che absolvo absolutus un verbo che indica una azione giudiziaria quella dell'assoluzione conseguente a un processo viene costruito con il genitivo del reato da cui si viene assolto naturalmente siccome voi in una frase del genere non avete la possibilità di grandi confusioni io non sto a sottilizzare sulle diverse costruzioni della colpa e della pena che di solito affollano molti manuali e anche il manuale su cui vi ho pregato di studiare perché qui ci basterà capire che di fronte a un genitivo noi abbiamo la certezza che si tratta o della colpa che gli era stata mossa o della pena a cui viene condannato così come nell'ambito giudiziario una colpa una pena sono oggetto di una valutazione di un giudizio la valutazione e il giudizio sono alla base di un apprezzamento che può riguardare sia una stima morale nei riguardi di qualcosa sia una stima venale cioè dare un valore un valore in danaro a qualcosa Magni opera eius estimata est il suo prodotto la sua opera la sua azione la sua impresa fu stimata Magni ecco il genitivo che ci interessa fu stimata molto fu stimata grandemente questo genitivo Magni indica la quantità di prezzo che viene valutato per quella particolare impresa che è soggetto del verbo che costituisce il predicato della frase ancora un altro tipo di verbi che viene connesso collegato con il genitivo è il gruppo dei verbi che indicano la memoria il ricordo se pensiamo anche il sostantivo memoria costruiamo noi sempre con il genitivo memoria uius rei il ricordo di questa cosa e memoria o dimenticanza sempre i due opposti che vanno insieme leggono la medesima costruzione obliviscere cedis atque incendiorum dimenticati della strage e degli incendi in questo caso appunto il genitivo cedis e incendiorum sono oggetto della dimenticanza a cui fa riferimento la frase accanto a questo primo gruppo di verbi con cui viene usato il genitivo c'è poi un'altra categoria verbale che affligge molto spesso gli studenti nello studio del latino cioè i due verbi interest e refert i verbi interest e refert indicano l'interesse di qualcuno a me interessa questa cosa io ho interesse per questa cosa al solito se noi dovessimo tradurre in latino daremmo una quantità impressionante di regole e norme decisamente affliggenti cerchiamo di ridurre al minimo visto che noi abbiamo già davanti una frase latina e dobbiamo cercare di renderla in italiano interest ciceronis interessa cicerone è nell'interesse di cicerone possiamo in questo modo capire meglio il motivo di quel genitivo se è nell'interesse di cicerone l'italiano dice interessa cicerone in alcuni casi al posto del genitivo ciceronis avete delle forme di aggettivo possessivo nostra interesse dice Enrico seguente nostra interesse scire ea que eventura sunt interessa a noi sapere quelle cose che stanno per avvenire quelle cose che avverranno ora se c'era il genitivo ciceronis e nel secondo esempio un aggettivo possessivo come nostra capite ancora una volta come quell'immagine di possesso che è tipica del caso genitivo abbia provocato questa doppia possibilità di presenza sia della forma del genitivo sia della forma del possessivo nell'esempio finale trovate le due forme unite dicere cesarem solitum ferunt non tam sua quam rei pubblici interesse ut salvu seset dicono raccontano ferunt che cesare fosse solito dire che interessava non tanto lui quanto lo stato che egli fosse salvo la salvezza di cesare non è nell'interesse dello stesso cesare ma nell'interesse di tutta roma non tam sua possessivo quam rei pubblici genitivo ecco che avete un parallelismo possessivo genitivo che vi spiega il significato profondo di questa presenza del genitivo all'interno della costruzione dei verbi interest e refert passiamo ora all'altro dei due casi che dobbiamo esaminare nella lezione di oggi il dativo come in italiano il genitivo corrisponde al di chi di che cosa così il dativo corrisponde a chi o a che cosa viene riferita l'azione relativa al verbo quindi il dativo indica a chi viene dato ciò che il verbo esprime a chi fa riferimento ciò che l'aggettivo esprime in pochi pochissimi casi a chi fa riferimento ciò che viene espresso da qualche sostantivo facendo riferimento al solito al libro per una trattazione più ampia limitiamoci a vedere alcuni casi di dativo con i verbi alcuni casi di dativo con gli aggettivi per i dativi con i verbi noi abbiamo come primo esempio i dativi che vengono collegati con i verbi intransitivi quello che il verbo transitivo dice a proposito del complemento oggetto in accusativo nei verbi intransitivi viene per lo più detto attraverso un dativo in italiano per esempio noi abbiamo che il verbo invidiare è transitivo io invidio qualcuno in latino il verbo invideor è un verbo intransitivo invideo è un verbo intransitivo nell'esempio trovate superioribus invidetur sepe vehementer essendo intransitivo invideo non può reggere l'accusativo si è invidiosi di coloro che stanno più in alto superioribus spesso con grande intensità spesso si è molto invidiosi dei comandanti dei capi di quelli che stanno sopra invidetur superioribus dativo altri verbi che vengono costruiti con il dativo hanno sia l'accusativo sia il dativo perché non sostituiscono con il dativo la funzione dell'accusativo ma la giusta appongono è il caso per esempio di dare dare qualcosa a qualcuno anche in italiano è come dare così anche donare e tra i composti di dare per esempio trovate circumdo circumdo circumdas circumdedi circumdatum circumdare attenzione agli accenti trovate la frase circumdare portum menibus in questo caso voi avete un accusativo circumdare e un menibus che in realtà non è un dativo ma un ablativo dunque in questo caso non rientra nella tipologia delle frasi di cui parlavamo prima vediamo invece degli altri esempi in cui dei verbi composti riescono a reggere la forma del dativo in alternativa ad altre costruzioni che sarebbero più vicine a quelle richieste dalla preposizione che forma il verbo composto cassio animus accessit accedo è un composto di ad più cedo l'animo si aggiunse venne andò a cassio quel dativo cassio è come se dicessimo ad che è la prima componente di accessit ad cassium infine gli ultimi verbi di questa schermata che si costruiscono con il dativo sono quelli cosiddetti di eccellenza come antecellit in quel caso l'antecellere cioè il superare è relativo al sensibus che troviamo subito dopo sensus hominum molto antecellit sensibus bestiarum l'intelligenza degli uomini di molto supera l'intelligenza degli animali in questo caso il verbo superare transitivo in italiano viene costruito con un dativo in latino perché appunto non è un verbo transitivo antecello con il dativo ancora tre casi in cui il dativo viene richiesto da particolari costruzioni verbali la prima è particolarmente importante e particolarmente frequente in latino il dativo di possesso amplissime tibi fortune sunt grandissime ricchezze sono a te questa costruzione per cui il verbo esse congiunto con un dativo indica il possesso di qualcosa è una delle più frequenti forme in latino per indicare l'avere l'essere in possesso di dunque quando troverete il verbo sum con il dativo ricordatevi che ci si trova dinanzi ad un costrutto che corrisponde al nostro uso del verbo avere mi oc est io sono proprietario di questo io sono in possesso di questo è difficile che si possa ricalcare il latino in italiano dando un senso chiaro a me è questo probabilmente si potrà anche dire ma certamente non è un italiano corrente non è un italiano facilmente comprensibile un altro caso in cui ricorre molto spesso il dativo connesso con una particolare tipologia verbale è quella del dativo d'agente legio fausto conscripta profecta est partì la legione legio arruolata conscripta da fausto complemento d'agente in questo caso viene costruito con il dativo è uno dei due casi in cui troviamo questo tipo di rapporto tra un verbo passivo e ciò che indica il complemento d'agente cioè chi compie l'azione espressa da un verbo passivo i due casi sono quello del participio perfetto come nell'esempio qui riportato fausto conscripta o quella del gerundivo cioè quello che abbiamo chiamato participio futuro passivo oc mi facendum est questo deve essere fatto da me questo io debbo fare facendus facenda facendum quando viene costruito nella cosiddetta perifrastica passiva richiede che il complemento di agente venga in caso dativo infine abbiamo alcuni casi in cui dei verbi reggono due dativi così come abbiamo trovato doppi nominativi e doppi accusativi il doppio nominativo è cesare consul factus est cesare fu fatto consul il doppio accusativo è romani cesarem consulem fecerund i romani elessero cesare consule il caso del doppio dativo è prevalentemente collegato a una costruzione del tipo dare dono dare in dono nella frase dare dono noi abbiamo oltre il dativo dono anche il dativo della persona a cui una cosa particolare viene data in dono e nel caso che trovate nella schermata patres gaio muscio trans tiberi magrum dono dedere i senatori diedero a gaio muscio in dono un campo al di là del tevere quindi dono e muscio sono i due dativi che sono collegati in questo caso al verbo do chiusa con questo la parte relativa al dativo con i verbi ci rimane da affrontare più brevemente la parte relativa all'uso del dativo con alcuni aggettivi gli aggettivi che si costruiscono con il dativo sono prevalentemente di tre tipologie o quegli aggettivi che indicano utilità e al solito al suo contrario lo svantaggio ecco l'esempio quintus publius dictator tres leges secundissimas plebi adversas nobilitati tulit quinto publio dittatore sottopose all'approvazione del senato tre leggi che erano particolarmente favorevoli alla plebe e contrarie alla nobiltà in un unico esempio abbiamo trovato sia l'utilità secundissimas plebi sia lo svantaggio adversas nobilitati entrambe le caratteristiche quelle di essere favorevole e quelle di essere contrarie vengono costruite con il dativo delle categorie sociali a cui sono favorevoli o contrarie analogo all'utilità o svantaggio è il caso dell'avversione o amicizia mi grata acceptaque mi è gradita e ben accolta la benignità la generosità di costui quindi la generosità di costui riesce a me gradita e ben accolta grata e accetta sono due aggettivi che indicano il contrario dell'avversione quindi il fatto di risultare gradito l'amicizia provata per questo gesto che gli viene fatto e da grata e accetta dipende il dativo mi infine una attitudine o convenienza nei riguardi di qualcuno genera dicendi apziora adolescentibus tipi di orazione generi di orazione più adatti ai giovani ecco in questo caso il risultare conveniente il risultare adatto a una categoria viene costruito con il dativo della categoria o del gruppo sociale a cui risulta conveniente quella particolare cosa a differenza del genitivo possiamo per il dativo individuare alcuni casi in cui il dativo compare in maniera indipendente cioè non necessariamente collegato a un verbo a un aggettivo e in qualche raro caso a un sostantivo cioè dei casi in cui il dativo ha un suo ruolo autonomo all'interno della frase non necessariamente collegato a questa o a quella parola per esempio il dativo di interesse non nobis solum nati sumus noi non siamo nati soltanto per noi soltanto a nostro vantaggio soltanto nel nostro interesse in questo caso il nobis non dipende da nati nascere per qualcuno il nobis potrebbe essere legato a qualunque tipo di verbo conservando la propria funzione di indicare per chi una certa azione viene fatta o compiuta quindi non possiamo dire che il nobis è conseguenza di una particolare tipologia verbale espressa da nati sumus una forma di dativo di interesse un po' svalutato un po' più semplice un po' più banalizzata è quella che compare nel secondo esempio e viene chiamato dativo etico tu mi istius audaciam defendis tu mi difendi la temerarietà di costui cioè come tu dinanzi a me tu per me tu davanti a me difendi il comportamento tutt'altro che corretto di questo signore in questo caso il mi non è certamente nell'interesse di una certa persona ma indica il punto di vista inserisce con una forza affettiva particolare quel ego tu non è che lo difendi in assoluto ma tu lo difendi ai miei occhi tu lo difendi rivolgendoti a me tu lo difendi chiamandomi a partecipare di questa particolare iniziativa quindi quell'ego viene inserito con forza attraverso questo dativo nell'azione espressa dalla frase nel suo insieme infine un altro tipo di dativo indica in rapporto a quale persona una certa azione si svolge cioè agli occhi di chi una certa azione assume delle caratteristiche è l'ultimo esempio che trovate vere estimanti etolicum magis ad termopilas bellum quam regium fuit per chi per chi giudica in maniera esatta vere estimanti la battaglia alle termopili fu piuttosto una guerra contro l'etolia che una guerra contro il re di persia fu più una guerra etolica che una guerra persiana una guerra regale questa affermazione etolicum magis ad termopilas bellum quam regium fuit viene considerata valida in rapporto in relazione a una particolare tipologia di persone quali sono le tipologie di persone che giudicano così quelle che stimano le cose in maniera corretta in maniera esatta per colui che giudica dunque dal punto di vista di colui che si trova nella condizione di saper giudicare bene e con questo abbiamo concluso la parte relativa al dativo arrivederci grazie a tutti